Ed ora la Montepaschi-Benzana-Siena! In campo con il numero 4, Joseph Forte! Numero 5, Terrell McIntyre! Numero 6, Lonnie Baxter! Numero 7, Animer Borsa! Numero 8, Benjamin Hensley! Numero 9, Marco Carranetto! Numero 10, Roman Sato! Numero 12, Lorenzo D'Ercole! Numero 13, Rimasas Kaukenas! Numero 14, Rodolfo Rombandoni! Numero 18, Luca Lettale! Numero 20, Joao Storlu! Allenatore della Montepaschi-Benzana-Siena! E' il signor Simone Pianigiani! Assistente Luca Banchi! Assistente Luca Banchi! Assistente Luca Banchi!